Ciao a tutti! Vi è mai capitato di vedere spuntare nel vaso in cui state coltivando i peperoncini dei funghi? Niente paura, sono nostri amici. Ma di questo ne parleremo dopo. In questo video vi mostrerò come e quando trapiantare una pianta di peperoncino. Sì, è vero, ve l'ho già fatto vedere in altri video precedenti a questo. Ma questa volta vi mostrerò come utilizzare un prodotto sensazionale per lo sviluppo ottimale della pianta. Iniziamo dal trapianto. Quando sarà il momento giusto per trapiantare una piantina? Quando le radici saranno abbastanza sviluppate da arrivare fino al bordo del vasetto. A questo punto vi basterà fare un po' di pressione sui lati per estrarre più facilmente la piantina. Togliamo un po' di terriccio così da liberare le radici. A questo punto prendiamo un vasetto, meglio se riciclato, e mettiamo sul fondo qualcosa per evitare che il terriccio esca dai buchi, se troppo grandi come in questo caso. Metterò un pezzo di sacco di juta che ho utilizzato l'anno scorso che ormai è rotto. Per questi travasi intermedi non utilizzo uno strato drenante sul fondo, è inutile, perché tanto tra poco effettuerò un altro travaso. Inoltre se il travaso finale sarà nel sacco di juta come spesso mi capita. In quel caso lì è totalmente inutile avere uno strato drenante sul fondo, come vi ho già fatto vedere in quest'altro video. Mettiamo nel vasetto del terriccio, logicamente senza torba. Io utilizzo questo che è molto soffice e leggero, così non serve aggiungere perlite. Ne mettiamo un po' nel vasetto e proviamo ad appoggiarci dentro la piantina per vedere dove arriva. Non deve stare né troppo in profondità e neanche troppo in alto. Vedete queste piccole escrescenze? Sono radici. Possiamo interrare la piantina fino a far arrivare il terriccio a questo punto. E ora mettiamo l'ingrediente segreto. Le micorrize. Le micorrize sono culture naturali di vari funghi. Questi funghi entrano in un rapporto simbiotico con le piante. Formano dei sottili fili che si connettono con le radici. Siccome i funghi non riescono a fare fotosintesi e da qualche parte devono pur prendere gli zuccheri per continuare a vivere e a svilupparsi, creano questa simbiosi con le piante donando a loro in cambio di questo zucchero i nutrienti che trovano nel terreno. Questi filamenti sono lunghissimi, vastissimi, molto più lunghi delle radici delle piante. Quindi riescono a occupare un'area molto più vasta e a recuperare una gran quantità di nutrienti in più di quello che le piante riuscirebbero a fare. In cambio chiedono solo un po' di zucchero. Infatti lo scambio non è equo, nel senso che il fungo richiede veramente poco zucchero e in cambio dà tantissimi nutrienti. Quindi è uno scambio nettamente a favore delle piante. Ma quali sono i benefici per le piante? Miglioramento delle qualità organolettiche. Aumentando la capacità di assorbimento dei nutrienti, quindi fosforo, potassio, azoto e anche dei microelementi, i frutti saranno più saporiti e nutrienti. Resistenza alla siccità. Questi filamenti fungono da riserva d'acqua così che aiutano la pianta a sopravvivere nei periodi di siccità. Questo significa che bisogna annaffiare meno frequentemente con un risparmio idrico. E di tempo anche. Tolleranza al calore. Migliorano la resistenza delle piante alle alte temperature, rendendole più adatte ai climi caldi e aridi. Che coi tempi che corrono è buona cosa. Protezione dalle malattie fungine. Creano una barriera fisica che ostacola la crescita di funghi patogeni, riducendo così l'incidenza di malattie fungine e il marciume radicale. Repellente per i nematodi. Le micorrize rilasciano sostanze repellenti per i nematodi, minuscoli vermi che possono danneggiare le radici. Inoltre stimolano l'attività batterica del suolo, che ha un effetto protettivo. Piante più vigorose. Favoriscono la crescita di piante più sane e vigorose. Con un apparato radicale più sviluppato e una maggiore resistenza agli stress ambientali. Riduzione del fabbisogno di concimi. Grazie alla loro capacità di aumentare l'assorbimento dei nutrienti, così come abbiamo visto prima, permettono di ridurre l'utilizzo di concimi, promuovendo una coltivazione più sostenibile e rispettosa dell'ambiente. In sintesi, i funghi rappresentano un prezioso strumento per coltivare piante più sane, più vigorose e più resistenti. E il tutto con un minore impatto ambientale. Se anche tu stai cercando un sistema per ridurre l'impatto ambientale, per ridurre l'utilizzo di concimi, per aumentare la qualità del tuo raccolto, l'utilizzo delle micorrize è un'opzione da tenere seriamente in considerazione. Bene, tornando a noi. Ricordatevi di leggere sempre attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni di qualsiasi prodotto che utilizzate per le piante. In questo caso leggo che per piantine piccole dicono di mettere uno o due pizzichi proprio al centro del foro dove si andrà ad inserire la piantina. Le micorrize devono stare a diretto contatto con le radici, così da entrare più velocemente in simbiosi. Poi come sempre aggiungiamo quanta terra serve per arrivare a una o due dita dal bordo del vaso e diamo acqua fino a farne uscire un pochino da sotto. Nel caso invece che la pianta è già bella sviluppata, procediamo nel seguente modo. Vedete che questa pianta ha già sviluppato un apparato radicale importante. Non preoccupatevi di ferire alcune radici, ricresceranno. Quindi togliete la garza e smuovete un po' di terriccio, così da liberare le radici. Poi procedete come per la piantina di prima, ma con la differenza che dobbiamo aggiungere le micorrize nel terriccio. Consigliano dai 4 ai 7 cucchiai di minestra per 10 litri di terriccio. Mischiamo per bene il tutto e procediamo inserendo la pianta ed il terriccio con i funghi. Alla fine bagnare per bene. E già che ci sono, do una spruzzatina alle foglie con l'estratto di equiseto. E se volete approfondire che cos'è l'equiseto e a cosa serve, vi lascio il video qua. Dato che le temperature di questi giorni lo permettono, lascerò le piante all'esterno. Ma ricordatevi di tenere d'occhio la meteo, perché se dovesse fare più notti consecutive sotto i 10 gradi, potrebbero bloccarsi. E quindi è meglio in quei casi lì tirarle all'interno. Mi raccomando comunque di tenerle in un posto ombreggiato per evitare le scottature alle foglie. Saranno sufficienti un paio di settimane, dopodiché potremmo lasciarle al sole diretto. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti! Grazie a tutti!